Minervino Murge deteneva droga in un locale, 33enne, in manette. A Minervino Murge i carabinieri hanno arrestato un 33enne del posto incensurato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano notato un sospetto via vai di giovani in un locale di via Rione Belvedere. Hanno fatto irruzione identificando il 33enne che è stato trovato in possesso di una dose di hashish. La perquisizione è stata estesa al locale. I militari hanno rinvenuto una dose da 3 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, dei ritagli di buste in cellofan e un coltello con la lama sporca di hashish. Bitonto, per sfuggire ai carabinieri seminò panico per le vie del centro. Per sfuggire al controllo dei carabinieri innescò un pericoloso inseguimento per le vie di Bitonto, sino ad abbandonare l'auto, rimasta incastrata su un marciapiede lasciando sulla stessa una pistola pronta a far fuoco. E' finito in carcere il pregiudicato bitontino di 35 anni, Domenico Leovino, legato al disciolto gruppo criminale Modugno che agiva nel centro cittadino di Bitonto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, per resistenza pubblico ufficiale, porto e detenzione di arma clandestina e detenzione di munizioni da guerra. I fatti risalgono al primo pomeriggio del 16 dicembre scorso. Il pregiudicato è stato riconosciuto dai militari anche grazie all'ausilio delle immagini impresse dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che lo ritraevano mentre si dileguava a piedi. Arresti della Polizia di Stato A Bari la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due uomini, fedele Devenuto di anni 24 e Antonio Cirzone di 33 anni, entrambi nativi di Cerignola e con precedenti di polizia, responsabili dei reati di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. I due sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare una vettura parcheggiata a lungo via Napoli. Incidente stradale tra un asino e un'auto Un asino ha procurato un incidente nella serata di lunedì 15 febbraio. È successo sulla complanare di Bitritto allo svincolo per Bitetto. Un'auto, una Fiat Punto, mentre percorreva la strada in direzione Bari, ha investito l'animale sbucato non si sa da dove. È stato lo stesso automobilista a chiamare i soccorsi e a raccontare l'accaduto. L'uomo ha dichiarato che mentre era alla guida della vettura, improvvisamente si è ritrovato sulla strada buia senza illuminazione pubblica, l'animale è a quel punto non è riuscito ad evitare l'impatto, poi l'auto si è ribaltata. Il povero asino purtroppo è morto sul colpo. L'automobilista illeso ha riportato lievi ferite. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra vettura, una Fiat Panda, che si è ritrovata dinnanzi l'animale ormai privo di vita investendola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, la polizia locale per i rilievi planimetrici, i carabinieri, il 118 e le guardie zootecniche. Santeramo, carnevale dei ragazzi, 49esima edizione, i riconoscimenti. Cala il sipario sul carnevale dei ragazzi, la manifestazione è organizzata ormai da 49 anni dall'oratorio salesiano di Santeramo. Anche quest'anno si è caratterizzata per la massiccia presenza di spettatori, in particolare nella giornata di domenica, quando migliaia di persone si sono riversate nel centro cittadino per onorare Re Burlone tra musiche, coreografie e divertimento. Un'edizione che ha visto l'abolizione della classifica finale, ma solo riconoscimenti. Il gruppo L'Energia Pulita Migliora la Vita, secondo circolo didattico San Francesco d'Assisi, è stato il gruppo più votato dal web. I Monelli di Don Bosco, I Monelli in letteratura, primo circolo didattico Iro Paradiso, ha ottenuto invece il riconoscimento per la raffigurazione globale. Il Carnevale dei Ragazzi di Santeramo in Colle in onda su Telemaig, martedì 16 febbraio alle 20.30 e giovedì 18 febbraio alle 23.00.